Siamo a Vermezzo e abbiamo incontrato Daniele D'Arios, è un cavaliere di prima squadra che ogni tanto si ricorda che fa anche l'istruttore. Hai portato degli allievi qui? Certo, sempre. Monto 8 cavalli tra cui Luce del Castegno ricomincia in questo concorso, altri cavalli importanti. Ho portato Passion che ha fatto la gara al primo giorno e tutti gli altri ragazzi che fanno le gare delle 20, le 15 e si ricomincia. Quanto sei avanti con la programma dei tuoi cavalli e quanto sei pronto per il campionato italiano che è prestissimo? Sì, quest'anno è molto avanti nell'anno e penso che lo usino come selezione, credo. Sono abbastanza avanti, Passion ha cominciato l'altro giorno a fare una gara, Bedecker non è ancora uscito e Luce del Castegno è il secondo concorso che fa. Ha fatto un concorso di preparazione 15 giorni fa, oggi salterà il Gran Premio del Nazionale, quindi completamente nelle sue gambe. Comincerò con un 2 Stelle a Gorla tra 20 giorni con Luce e a Cattolico con Bedecker e Passion e tutti gli altri. Come sono i percorsi di Mario Breccia? Impegnativi, il piccolo Gran Premio di ieri era una bella gara, infatti ha fatto qualche morte ferito. Molto belli alla fine, belli perché un po' da internazionale e questo è bello perché in un nazionale si tende sempre magari a tenere le cose un po' più semplici, percorsi magari più lineari. Primo giorno quando siamo arrivati già ti accorgi che è un po' diversa la situazione, infatti oggi monto in Gran Premio Luce e un'altra cavalla che ha un po' di esperienza e monto loro due e basta, proprio perché mi aspetto un Gran Premio abbastanza selettivo. La prima squadra in mano ha un nuovo tecnico, cosa cambierà e cosa pensi di Hank Noren? Hank è un grandissimo tecnico, ovunque sia andato ha creato prime squadre di altissimo livello dalla Francia, veramente quando aveva in mano lui la prima squadra della Francia erano imbattibili. Sarà bellissimo, io purtroppo non l'ho incontrato il primo stage che ho fatto alla Malaspina perché lui non era presente, domani sarà presente e non vedo l'ora di lavorare con lui e Roberto è un grandissimo entusiasmo perché Roby è veramente... Tanto entusiasmo però non vuole sbettere di fare concorsi, te lo troverai sempre in mezzo agli ostacoli. E' bello, sì. Senti, com'è stata l'ultima parte dell'anno della tua esperienza di prima squadra? Un po' incalando, Passion l'ho messo a riposo presto, Verona non sono stato perché Passion era a riposo, Bedecker ha fatto ancora qualche gara per rientrare un po' nella serenità e un po' ricominciando a ricostruire i cavalli che poi saranno di quest'anno un po' dell'internazionale, quindi qualche sette anni che avevo lasciato indietro, qualche cavallo un po' che avevo lasciato indietro, ho ripreso un po' in mano loro e almeno quest'anno avrò qualche spalla in più magari. Perfetto. Gioveni cavalli sempre, tu sei stato uno dei primi a usare cavalli italiani, c'è qualcuno nella tua scuderia che ti dà quella emozione? C'è uno stallone che è arrivato alla fine dell'anno scorso, credo che sia il mio futuro, credo, spero. Che geneologia ha? È un canturo, è un canturo, è nato in Italia, marchiato però in Holstein e credo che sia veramente un buon cavallo. Adesso ha otto anni, sono le prime esperienze che fa. Grazie e complimenti. Grazie a voi.